In un caldissimo lunedì pomeriggio è partita l'avventura del Givi Borgo per la nuova stagione che sarà la quinta consecutiva in Serie D. Agli ordini di Pacifico Fanani la truppa bianco-rosso-azzura si è ritrovata allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca, che ormai da un paio di stagioni è divenuto il quartier generale della squadra che vi gioca anche le gare casalinghe. Questo in attesa di poter tornare al rinnovato Carraia, che però ci dicono ci vorrà ancora qualche mese, si spera entro la fine del 2019. Intanto è iniziato il lavoro di una preparazione che sarà lunga e scrupolosa. Pacifico Fanani può già lavorare con un gruppo ben nutrito ed una rosa che manca solo di pochi ritocchi, ma per quello sta lavorando allacremente il direttore sportivo Luca Pacitto. Tra l'altro nel gruppone che sgobbe e suda ci sono anche diversi elementi in prova che saranno valutati. Si deciderà poi se tesserarli oppure no. Fanani è come al solito tranquillo e consapevole che lo attende un campionato difficile. Siamo carichi, abbiamo voglia di far bene, la società ha messo a disposizione una rosa interessante da plasmare, da costruire. Con la pazienza di tutti e la voglia di far bene credo che si potrà arrivare ad avere dei buoni risultati. Chiaramente la società ci ha chiesto di salvarci e di valorizzare i ragazzi giovani che abbiamo a disposizione. Questo è l'obiettivo iniziale. Poi vediamo, tanto ora si parte, avremo un mese e mezzo di lavoro prima dell'inizio del campionato dove dovremo costruire la nostra stagione. Già fissato anche il fitto calendario delle amichevoli, prima uscita mercoledì 31 luglio contro il Gavorrano, che dovranno portare il Ghiriborgo in buone condizioni al debutto in Coppa Italia del 25 agosto, ma soprattutto a quello in campionato del primo settembre. A proposito di campionato, come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, si fanno sempre più attendibili le voci che vogliono le squadre toscane spalmate su due raggruppamenti. Le nostre, e quindi oltre al Ghiriborgo anche a Realforte e Seravezza, saranno inserite nel girone A con Liguri e Piemontesi, aspettando magari anche la Lucchese.